Chi parla? Sono il segretario Don Stanislao. Buonasera Don Stanislao. Buonasera Santo Passo e Santo Padre. Grazie. Sì. Pronto? Per salutarla. Grazie Don Stanislao. Per tutti ascoltatori. Grazie, siete molto gentili. Momento. Pronto? Signor Vespa. Buonasera Santità. Vorrei ringraziarlo e anche tutti i partecipanti e presenti parte in colloquio. Vorrei partecipare cordialmente, ringraziare cordialmente per tutto questo che avete preparato e detto per questi 20 anni. Molte grazie. Grazie a lei Santità. Questa è una sorpresa che francamente non ci aspettavamo. Grazie. Qui le scale non c'entrano, eh? No, qua le scale non c'entrano. A vent'anni di distanza dal primo segmento, questo è il 98, quell'altro era il 78, dieci anni fa, trent'anni fa. No, io ancora non ci credo. Adesso ogni volta che la sento mi dico ma non è possibile. Non ci credi? No. I suoi occhi diventano un po' lucidi anche. Ma è un regalo, un regalo fantastico, veramente, veramente inatteso e, vabbè, comunque. Lei in quel momento disse anche i giornalisti hanno un'anima. Ebbene sì, perché mi commossi e disannamorati, l'edizio Moratti era di fronte, dice, vede, anche i giornalisti hanno un'anima.